Non conosce crisi il matrimonio tra Pesaro e la World Cup di ginnastica ritmica, tanto che l'undicesima edizione in programma alla Viti Frigo Arena dal 5 al 7 aprile 2019 si presenta come una di quelle con i numeri più interessanti a dimostrazione che a livello mondiale la tappa pesarese della Coppa del Mondo riscuote sempre grande successo. Le nazioni che parteciperanno alla manifestazione saranno 40 e le ginnaste che scenderanno in pedana saranno 74 per le gare individuali e 105 per le gare a squadre a cui parteciperanno le rispettive squadre di 18 paesi. È un'edizione molto interessante perché ci saranno tutti i nuovi esercizi in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo sia delle individualiste che della squadra. La squadra addirittura avremo due esercizi completamente diversi con attrezzi completamente diversi rispetto al quadriennio passato. Avremo le nostre farfalle che l'anno scorso hanno vinto, hanno fatto l'unplane, hanno vinto tutto qui a Pesaro. E inoltre avremo il galà di domenica, anche questo interessante, in cui festeggeremo i 150 anni della Federazione Ginnastica con molti comitati regionali della Federazione Ginnastica venuti da tutta Italia che effettueranno delle esibizioni con il tema delle tradizioni popolari. Una ricorrenza che verrà festeggiata con una programmazione televisiva davvero speciale. Le finali individuali e a squadre di domenica infatti verranno trasmesse in diretta sulla Sette. Una vetrina eccezionale che porterà l'evento nelle case di milioni di italiani, contribuendo a promuovere e a diffondere la ginnastica ritmica e di conseguenza anche il nome di Pesaro e della Vitrifrigo Arena. Nello spettacolo perché la Vitrifrigo Arena è il massimo, ma è il massimo proprio dal punto di vista organizzativo per uno sport come questo che fa capire che TAP è la migliore in assoluto di tutto il circuito mondiale e Pesaro avrà una visibilità non di poco conto. Noi ci proponiamo per guidare lo sport italiano, continuare nella nostra missione che è quella sia di essere vicini alla popolazione, ai bambini e ai ragazzi sia quella di fare agonismo ad alto livello e oggi qui la conferenza stampa lo conferma perché una Coppa del Mondo come quella di Pesaro è sicuramente un fiore all'occhiello e un avvenimento di alto livello. L'undicesima edizione della World Cup di Pesaro quest'anno, prima tappa del circuito di Coppa del Mondo, non fa altro che confermare come questo territorio sia diventato un punto di riferimento per la Federazione Internazionale di Ginnastica, un appuntamento irrinunciabile per le ginnaste più forti al mondo. Una squadra vincente, una squadra professionale dove viene portata avanti una manifestazione che è sì l'orgoglio della Feder Ginnastica ma io dico che è l'orgoglio di tutti quelli che amano lo sport ed è l'orgoglio dello sport marchigiano.